Un'alimentazione equilibrata, l'esercizio fisico e uno stile di vita sano sono alla base di un corretto funzionamento dell'intestino. A volte però lo stress, una dieta disordinata e i farmaci possono rompere questo equilibrio, provocando non solo disturbi intestinali, ma anche un abbassamento delle difese immunitarie, aumentando d'altra parte il rischio di insorgenza di patologie. In questi casi, come ci spiega la nutrizionista Giada Moscatelli, è fondamentale ripristinare l'equilibrio dell'intestino, mantenendolo pulito con alimenti o integratori contenenti probiotici e prebiotici. I probiotici sono appunto i veri e propri batteri di varie famiglie e sono presenti fondamentalmente negli alimenti fermentati, come latte fermentato, che sarebbe il kefir, yogurt, lo skir, che è un altro tipo di yogurt di origine nordica, quindi ecco questi prodotti qua, che contengono proprio batteri vivi. Se non riusciamo ad assumere questi latticini, possiamo assumere anche degli integratori. Invece i prebiotici? I prebiotici sono il nutrimento per questi batteri. Sono fondamentalmente delle fibre, per cui a livello alimentare le troviamo nei cereali integrali, nella verdura, in maggior quantità, ad esempio nell'aglio, nella cipolla, nei carciofi e nella cicoria. Oppure anche questi possono essere assunti, magari sotto forma di integratori, associati ai probiotici, in delle formulazioni che vengono chiamate simbionti, dove sono presenti sia probiotici che prebiotici. E quando è consigliabile assumerli? Allora, l'assunzione di integratori, io la consiglio generalmente nei cambi di stagione, proprio come abitudine, perché lì andiamo a cambiare un po' lo stile alimentare, proprio a livello di stagionalità, diciamo. E poi può essere utile anche in periodi particolari, come dicevo prima, magari dopo dei periodi di stress, oppure se abbiamo avuto delle patologie, delle influenze, abbiamo assunto degli antibiotici, che vanno a sballare, diciamo, il sistema intestinale, oppure anche dopo un viaggio all'estero, perché comunque anche lì abbiamo dei cambiamenti a livello alimentare molto drastici, diciamo. Quindi quando torniamo dal viaggio può essere utile un ciclo di integratori a base di probiotici e prebiotici.